La nostra proposta rimane aperta e inclusiva a tutte le forze antitetiche all'attuale disastroso governo regionale. Parola di Mario Chiuto, che non ferma la sua corsa verso la cittadella. Il sindaco di Cosenza ha letto con attenzione le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che al culmine di un'intensa giornata elettorale a Reggio Calabria, ha bocciato la gestione Oliverio, definendo il presidente e la sua giunta drammatici. Il centrodestra potrà vincere facilmente, Fratelli d'Italia è pronto a fare la sua parte. Sul candidato ancora però non c'è alcun accordo, ne discuteremo dopo le europee, tuttavia credo che Vandaferro sia la candidata naturale, ha aggiunto ancora la Meloni, lasciando nel fritzer il sindaco di Cosenza. La palla insomma è in tribuna, in attesa delle elezioni europee, il cui risultato sarà determinante per gestire i rapporti di forza all'interno del centrodestra, anche calabrese. Intanto, forte di sette liste, già pronte o quasi, Occhiuto continua la sua campagna elettorale, affrontando i temi caldi del presente calabrese. Domenica scorsa si è occupato d'ambiente, la Calabria deve vincere nei prossimi anni la sua battaglia più importante, aveva riferito, salvaguardare e risanare l'ambiente, il suo capitale naturale, offrendo alle nuove generazioni modelli di sviluppo ecosostenibili, su cui avviare percorsi di occupazione reale, legati alla capacità produttiva. Dobbiamo cominciare, riferito ancora Occhiuto, dal rispetto delle nostre risorse. Ieri invece ha parlato di sanità, anche in Calabria abbiamo diritto alla salute e agli ospedali più efficienti, ha infatti ricordato, l'umanizzazione e l'efficienza della sanità calabrese sarà uno dei miei primi obiettivi.